Roma Nord, la zona più patinata della città più bella del mondo. Qui la forma è tutto, l'apparenza è tutto. Devi essere impeccabile. In una parola, flawless. Ah, e poi ci sono le mie amiche. I premi Pulitzer. Ludovica ha dato fuoco alla comunità. Deve fare delle visite alla Hasle. Quando le riterranno idonea, potrà tornare in comunità. Quanto tempo ci dobbiamo tenere la piromane? La piromane è tua sorella. Non è mia sorella. È possibile che dobbiamo imparentarci con questi arricchiti mitomadi? Perché Ludovica in realtà è... Manipolatrice, preda di deliri strionici. Pure un po' a paragula, eh? Tu mi vuoi rovinare la vita, eh? Mai non te lo permetterò. Posso dormire con te? Facciamolo. E poi, per l'amore, ci sarà tempo. Se c'è una cosa impossibile, è dimenticarsi di te. Che carina! Che ti stai vedendo? Eh? Fai vedere. È Michela Girò. Ma chi è sta burina?